musica non ce la posso fare basta basta vabbè andiamo a fare il memory no no tu devi levare il cacchio hai capito? grazie tra slamenti strani e dove trovarli ah che bello quel corpo per terra prima ho dato un bacino poi l'ho riportato no io l'ho visto gli ho dato un bel bacino poi l'ho collato in electrical tu cosa facevi in storage? io non so che risposta darti ci passavo da electrical no 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 da admin mi ha visto anche Dave Dave? non sei passato da admin non c'eri ma mezz'ora fa ho fatto tutto il giro mi ha beccato anche Sprite aspetta Sprite scusami allora Sprite Sprite amore mio tu mi hai seguito mezz'ora mentre facevo il percorso da shield a sopra e che cazzo dici che allora non c'ero? in caffettiria si è scomparso grazie al cazzo mi stavi seguendo sono scappato via Dave Dave era in admin quando io sono uscito ho fatto tutto sto giro sì esatto io l'ho visto uscire da admin e io sono entrato ok chi ha visto Eury invece? io ero in upper engine no no non te l'ho chiesto perché già lo so dove eri no no io l'avevo visto dove eri tu Eurya? in upper engine te l'ho già detto dove è upper engine scusami? vicino a mad bay no tu eri giù tu eri in basso a sinistra ma sono poi sono sceso cioè io l'ho visto quando l'ho visto aspetta no ma shield ha inizio partita stava shield non sono più andato a destra allora vi spiego perché perché era electrical sono andato verso sinistra non sono entrato in electrical perché nade mi ha visto quando sono passato accanto a te e alla mia sinistra in lower engine c'era fermo che stava facendo forse fake tanica Eurya allora Eurya e nade mi puzzano ok cioè nade forse un po' meno perché ha due alibi ma Dave ha preso il volo ma no raga è pazzesca sta roba cioè ma me Redis mi puzza un bordello non ho capito non ho capito per niente cosa è successo raga c'è ero ero in telecamera come avete potuto vedere da tutta la partita si no ho tolto sono io vabbè erano 30 ho tolto e c'era un morto cioè l'ho ucciso sotto i miei occhi ok forse volevo uccidere te ma ha sbagliato secondo me ero dentro il corpo e quindi non mi ha visto c'era con me Dave oppure una self-call esatto non posso dire non posso dire perché allora io ero in telecamera si e vedevo tre scusami no ero in admin e vedevo tre in telecamera si due in shield barra communication dove ho incontrato Sprite poi ho incontrato Eurya e poi ho incontrato Eurya una cosa una cosa confermo chi è che ha visto Eurya? io io no dove e quando shield shield quando shield stavo facendo lì shield poi è scattata la luce e sono andato in caffè non ti infervorare non ti infervorare l'ho visto pure io lì ma dopo dopo io dico no mi avevo visto in telecamere telecamere sono andato in madbay e caffetteria qualcuno l'ha visto in madbay e caffetteria? no in caffetteria non c'era nessuno almeno credo raga secondo me Eurya secondo me Eurya aspetta raga sono morti due non uno no è morto uno l'haki è crashato allora capiamoci se sono due allora se l'haki che è crashato era impostore e adesso chicchiamo e sbagliamo non perdiamo se l'haki che è crashato non è impostore è un bel problema e chicchiamo e sbagliamo sì ma dobbiamo chiccare per forza perché se non faccio sì dobbiamo votare ma dobbiamo votare con testa un secondo posso parlare 30 secondi cosa hai votato Regi? Eurya Regi non c'ho hai finito la task quello del download ad in admin sì upload comunque no perché ci ho messo praticamente 3 secondi sì ci ho messo 3 secondi ma queste call non servono a un cazzo io se devo votare qualcuno voto Eurya chi voti te? Eurya ero in caffetteria anche se mi puzza abbastanza Raze voto Eurya io avrei votato anche voto ma io avrei votato Raze non so mi puzza Raze sta partita anche a me puzza però lui comunque è nei posti safe quando succede qualcosa quindi allora forse uno l'abbiamo beccato ok manca il secondo ovviamente però uno in teoria l'abbiamo beccato voto gli sto staccato come il vento chi erano? eh niente GG voto merda cavolo per poco erano Eurya e voto la trollo sono il terzo impostore non mi fanno fare l'impostore lo divento impostore ok? la trollo a caso raga a caso a caso a caso dove? allora io vi ma che no minca è morto ok mi besti cazzo no nel senso ho visto prendere una botola in lower engine ok io ero in electrical io chi ha detto non lo so il colore era era chiaro ok? chiaro ok io ero in lower engine però non ho preso nessuna botola ho intravisto Razy per passare tra l'altro che andava verso elettrica uscire o entrare dalla botola sì e io stavo andando a riportare la botola da giù scusate se vi interrompo i stori già fra le foglie con me c'era chi c'era? Barry? no allora con calma noi eravamo tutti insieme se non sbaglio Barry Lori io Dave siamo già in 4 sì sì siamo in 4 mi sa e basta tra di voi chi era scuro? chi era scuro e chi era chiaro? eh Lori e scuro beh io sono blanco mi dissocia quello che sto chiedendo però nel senso a tema di gioco bisogna un attimo raga era uno col colore chiaro ok? sì ma quindi o sprite o Eurea sto dicendo quelli con i colori chiari o sprite aspetta o sprite Eurea Dave Lucky Lucky e basta allora se non mi sbaglio era Lucky Lucky Luke che era andato verso Shield cioè dopo che hanno fatto la cosa che si è sistemata la radio voto è andato a destra mi sembra con Lucky Luke è un altro è andato a sinistra e io sono andato a destra a scendere no ci stiamo concentrando sulla botola non su allora un secondo ah ok chi è che sa quella botola dove conduce e da dove si può prendere allora più o meno quella botola lì ti porta in reactor e in apogine qualcuno ha visto in quelle vicinanze qualcuno? no è per scadere il tempo beh niente ragazzi tenete i colori chiari comunque d'occhio poi magari azzecco pure perché ogni volta che sparo a cazzo ragazzi ecco ogni volta che faccio cagare che dico cagate indovino sempre ok indovino è così ora mi ammazzano qua e finisce il mio troll vi prego non mi ammazzate ok per una buona causa vi faccio vincere impostori non dovete killarmi ok uniamo le forze fratelli uniamo le magari il gioco capisce mi fa giocare impostore vi sto odiando tantissimo in alto a destra ok in alto a destra io lo so facendo le sì dove c'era la tasca dei track devi beccare il timing aspetta aspetta in alto a destra ah in electrical in alto a destra ok dove devi beccare il timing io ero con Raziv a fare in navigation no ragazzi a fare le tasca mai visto ci sono aspettati che lui è andato verso io sono andato io ero in admin che vedevo le teste ho visto a un certo punto che c'erano tre in communication c'erano tre teste in no scusatemi in navigation e a un certo punto ne da tre sono diventate una e uno è comparso ultra mega fast in shield sono andato giù ho trovato barry però non l'ho visto prendere la bottola stavo entrando in navigation però non c'è nessun morto se mi dite che ale è andato in è morto in electrical quindi quella parte lì non ho chissà che call vi posso dire che evidentemente barry e uria io e luke luke un po' di dubbi perché l'ha trovato però vabbè circa come in admin non siamo mancano Dave sprite raze secondo la call di prima a me mancava sprite e Dave era con me quindi l'unica accusa comune è sprite qualcuno ha visto sprite? io aspettate qualcuno ha visto sprite? non dove non voglio sapere non vogliamo sapere da sprite vogliamo sapere dagli altri chi ha visto sprite? no no non l'ho visto mi dispiace ok già un più uno perché era solo spright dove eri? io stavo uscendo da madbay quando avete trovato il corpo che avevo fatto le pozzoncine quelle da un minuto però in madbay c'è la potola electrical che porta l'electrical? che giro hai fatto per andare in madbay? sono passato sotto electrical ho fatto un giro da lower engine upper engine sono passato da sopra sono andato in madbay qualcuno ha fatto lo stesso giro puoi dire di averlo incrociato? io ho fatto madbay caffetteria sceso giù benzina a me puzza sprite però schifo un po' si che ripeto era chiaro un colore chiaro è bellissimo ragazzi io spero non mi uccidano gli impostori mi sentirei turbato ok devo stare con alcuni devo stare con quelli più safe ma al momento non c'è nessuno ah 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 lucky 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 uh la lucky faccio il coso faccio sto coso qua no c'ho il memory oh no dove? stavolta non c'entro niente non potete dirmi niente ero con me allora io ero in navigation aspetta aspetta prima voglio sapere dove e prima ho fatto la lucky luck ero in navigation ho visto che c'era l'allarme vabbè la 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 aspetta 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 dove è il corpo nome sta o due ora aspetta asogiro spryter era con me io tu nade e il terzo c'ero io c'ero anch'io con nade eravamo 4 ok gli altri sono ancora colpevoli al momento per questa kill quindi mancano fuori barry e dave io sono da fare l'emergenza reactor dove c'eravamo io te e nade si lo so però ah dave dove era io ero in mad bay a guardare luke e poi mi sono andato in caffetteria mi sono fermato per cercare questa roba qua ho visto che era un impostore ho visto che se non vedeva niente era un impostore stavo per chiamare ma hanno reportato ma chi è il mad bay scusami quindi ero io e lucky luke e tu ci hai passato davanti e anche io ci è andato via io son passato davanti si sei venuto a inizio round ah beh ah si alla fine raga a me sa molto di self core self call però però un attimo silenzio tutti aspetta 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 una cosa stavolta merda su tutti faccio cadere tutti ti prego devi non mi ammazzare per cortesia nade euria ciao vabbè 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 è una domanda comunque corretta da fare sì infatti io non so come rispondere ah vabbè allora prima sentimo la goal dave un attimo dave da shield a navigation no no raga barry ha preso la botola si si vabbè uno è lui voglio sapere l'altro aspetta navigation io nade no era più verso shield era più verso shield io nade sprite ero ammennato a sinistra io ero corretto mancano luke era le telecamere luke sì che ho visto barry quindi potrebbe essere self call di dave barry dove l'hai visto prendere la botola avete presente nella telecamera quella che dà sull'uscita di navigation dove c'è scazza a destra allora potrebbe essere stato lui dalla luce votiamo niente volevo beccare tutte e due volevo beccare quello in corridoio però deve mi puzza a me puzza sprite eh spazio è per inizio però al momento infatti c'è solo una kill perché lui sta sempre con noi capito vabbè e chi mancano le task eh no 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 se lo dici l'ammazzano non lo dire nessuno è uguale tanto c'è il anche i fantasmi contano no 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 fantasmi dovete fare le quest i fantasmi devono fare le task ma non mi devono dire se le devono fare o no seguiamo laghi e insomma mi piace come Dave ha approvato chi erano chi erano Dave e sprite io ho una parità che faccio vabbè ragazzi un mostro ragazzi un mostro è un mostro io ero andato in navigation un attimo io e Barry io chi oh sprite e Barry ah ok quelli che dicevamo sì quella botola che hai preso sprite eh Barry quale botola era Barry era Barry va beh no no la prima quale ti dicevo io scemo di merda ah ok oh vabbè quella è stata molto bella come botola comunque se facessi un'efflessione tipo per ogni morte che faccio votate tutti non ho capito che faccio Grazie a tutti.